Allora, adesso vorrei sentire Antonino Iaria, Presidente Commissione Smart Cities Comune di Torino e Consigliere Delegato Città Metropolitana. Bene, abbiamo visto uno strumento, abbiamo visto dei dati e lei si occupa nello specifico di Torino e Smart Cities. Ecco, in concreto, questo tipo di strumenti come si possono utilizzare per avviare questa trasformazione che ormai specialmente in Italia si rende necessaria delle aree urbane, diciamo, in cosiddette Smart Cities, con tutte le qualità che dovrebbero avere queste aree? Prego. Grazie, buongiorno a tutti, scusate ancora per il ritardo, anzi scusate Trenitalia per i 38 minuti di ritardo e poi dopo ho avuto la brillante idea di venire a piedi da stazione Termini, quindi sono arrivato ulteriormente in ritardo. La domanda che lei mi ha fatto apre uno scenario molto interessante, però vorrei fare una piccola premessa su un atto che abbiamo appena deliberato come Consiglio Comunale di Torino, che è un atto di indirizzo per la revisione del piano regolatore generale. In quest'atto di indirizzo noi abbiamo messo un punto fermo sulla decisione di non consumare più suolo libero, suolo verde e anche salvaguardare i pochi spazi rimasti che adesso hanno destinazione agricola nelle aree urbane e perurbane. Questo atto ha chiaramente un grande impatto, noi siamo alla prima fase di questa revisione del piano regolatore generale e apro un'altra parentesi, il piano regolatore generale purtroppo, detta di molti, non è più lo strumento adatto per governare questi processi del territorio. Perché se abbiamo un problema di consumo di suolo in area vasta l'abbiamo perché ogni singolo comune attua un piano regolatore indipendente l'uno dall'altro, non si parla né valutando una visione strategica di tutta l'area vasta, proprio nel discorso di relazioni del territorio, né appunto valutando altri parametri. Tornando al tema delle città, lo strumento di valutazione basato sui servizi ecosistemici permette due tipi di valutazione, all'interno della città di Torino come ho detto prima non abbiamo tantissime aree verdi rimaste che possono avere uno sviluppo, noi abbiamo appunto anche messo un blocco sull'edificazione di queste aree verdi, però abbiamo un altro tema, tutta la rigenerazione delle aree urbane dismesse. Quindi questo strumento di valutazione dei vantaggi ecosistemici, vantaggi che riguardano tutti gli indicatori che sono stati esposti prima, possono anche lavorare al contrario, cioè capire quanto è conveniente rimettere mano a una progettazione di un'area dismessa per un'ex area industriale, come un'ex zona che adesso è completamente non edificata, non costruita. Questo instaura anche un processo virtuoso nell'economia che è legata all'edilizia, come diceva già prima De Rosa, non consumare solo, non preclude il non investire in una nuova edilizia chiaramente più efficiente, più, chiamiamola smart, ma più attenta anche a migliorare l'ambiente in cui viene costruita. Questo, come ha già citato lei prima, aumenta un parametro che forse ha già inventato il Presidente Kennedy, che è il benessere interno lordo, cioè il BIL, un parametro contrapposto al PIL. E' chiaro che, come dicevo prima, il lavoro da fare è il lavoro di supporto agli enti locali in area vasta e questo, lo dico anche come rappresentante della città metropolitana di Torino, è un compito proprio della città metropolitana, un compito di seguire gli enti con vari strumenti proprio per fare una progettazione condivisa. Come dicevo prima, questo strumento nasce appunto, viene sviluppato all'interno della città metropolitana di Torino, proprio per supportare gli enti locali nelle loro decisioni che riguardano appunto il consumo di suolo e le loro previsioni di piano regolatore. Nel 2012 erano previste circa 4.700 ettiri di consumo di suolo, appunto, leggendo i vari piani regolatori. Chiaramente in questo periodo forse abbiamo un'occasione storica, visto il blocco del mercato immobiliare, di limitare appunto i danni di decisioni già prese, perché quello è anche un problema, se hai già un diritto acquisito non è facile per un'amministrazione togliere questo diritto. Quindi abbiamo questa occasione storica nel poter, in certo senso, bloccare o modificare tutte le serie di varianti che non sono ancora partite proprio per questo discorso di blocco dell'economia legata all'edilizia, che ci permette, attraverso anche questo parametro, di ricostruire una progettazione condivisa, appunto, come dicevo, di area vasta. Area vasta che forse anche l'ambito metropolitano, anche se la città di metropolitano di Torino è una tra le più grandi, forse non è ancora sufficiente, perché noi siamo nell'area della panura pedana più inquinata e quindi dovrebbe essere un ambito regionale, se non anche, diciamo, di rapporto con le regioni limiti, tipo la Lombardia. Noi stiamo lavorando anche a un tavolo condiviso proprio su questo discorso di attuare piani, appunto, dicevo, condivisi con le altre regioni e le altre province, proprio anche sulla mobilità, perché noi abbiamo un grandissimo problema di qualità dell'aria. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda e, boh, direi che se ci sono altre domande sono a disposizione. Grazie. Grazie. Allora, sì, una precisazione volevo chiedergliela. Nell'ultima parte del suo intervento ha parlato di progettazione condivisa di area vasta. Mi scende un po' più nel dettaglio, perché nel momento in cui lei parlava di questa cosa io immaginavo una sorta di puzzle, sostanzialmente, sul territorio. I puzzle sono fatti di tessere che sono diverse tra di loro, con realtà socio-economiche diverse, con esigenze diverse, eccetera, eccetera. E come si può, diciamo, mettere a punto una progettazione condivisa su un'area che, comunque, come quella di Torino e che sta attorno a Torino, ha caratteristiche che possono anche mutare nell'arco di pochi chilometri? Cioè, quale tipologia proprio di processo state utilizzando a Torino? Ma, diciamo che il processo che stiamo utilizzando, innanzitutto, è quello di rafforzare le potenzialità del piano territoriale di coordinamento. Il piano territoriale di coordinamento danno, come sapete bene, un indirizzo e non danno quasi mai dei vincoli molto precisi. Questo potrebbe essere, attraverso uno strumento con indicatori corretti, anche economici, perché è importante dare indicatori economici, e questo strumento lo fa, sia appunto, sia a livello di dettaglio molto alto, sia anche in maniera generale, anche per aprire la discussione, permette appunto di valutare le aree in maniera, diciamo, omogenea. E, come giustamente lei ha detto, la città metropolitana di Torino, o la ex provincia, ha proprio questa caratteristica di avere diversi ambienti. La metà dei comuni sono in area montana, con pochissima, la maggior parte con pochissima popolazione e con esigenze differenti. E il grande concentrato intorno alla città di Torino è chiaramente densamente edificato. E quindi, diciamo, le prospettive che noi stiamo cercando di portare avanti è quello di un recupero, per esempio, delle aree montane abbandonate, chiamiamole borgate alpine abbandonate. Noi abbiamo un patrimonio, diciamo, un patrimonio diffusissimo sull'arco alpino di aree non più utilizzate, con poca popolazione. Riuscire a portare popolazione residente, e sto parlando proprio di popolazione residente, non valutare soltanto il discorso turistico, perché abbiamo comuni turistici che vivono per conto loro e quindi hanno una caratterizzazione a parte, ma riuscire a portare, per esempio, popolazione residente nell'arco delle borgate alpine abbandonate permette un recupero di quel territorio. Ma un recupero, come ho detto prima, valutando anche aspetti economici, perché il recupero non può essere solo turistico, ma recuperare anche tutta una serie di mix di imprese legato all'agricoltura, legato al turismo diffuso, legato alla ristorazione, legato a eventi sportivi. Insomma, questo mix di imprese permette di riportare popolazione residente che vive però le borgate alpine non più nel loro concetto, diciamo, antico di isolamento, ma anche un concetto più moderno, tra l'altro anche con la possibilità, e questi sono vari progetti, di portare una digitalizzazione spinta in quel territorio in modo da creare anche questa sinergia con la possibilità di telelavoro. Per quanto riguarda invece il concentrico della città, è chiaro che, per esempio, già, forse sarà stato detto prima nell'esposizione del progetto SEM4CP, che la città metropolitano sta lavorando già con tre, quattro comuni del concentrico con una popolazione non indifferente, proprio per guidarli in questo processo di modifiche dei piani regolatori. Come ho detto prima, questo problema della gestione del piano regolatore è un dibattito aperto che deve essere portato avanti in maniera forte, perché il piano regolatore come strumento è molto vecchio, ha permesso una regolarizzazione del territorio negli anni da quando è nato, che prima non esisteva, però è anche vero che ha creato, per esempio, solo nell'intorno di Torino, un fenomeno molto particolare, cioè la città di Torino ha perso popolazione e i comuni subito di Mitrofi hanno aumentato la popolazione, c'è stato uno spostamento. Questo spostamento nei comuni di Mitrofi ha portato anche un consumo del territorio molto ampio, perché molte volte nei comuni di Mitrofi la scelta edificatoria è andata sul discorso del quartiere diffuso con le villette, che come sapete benissimo è la tipologia edilizia che consuma più territorio. Va bene, grazie mille. Riuscire a comporre questo puzzle è estremamente interessante questa esposizione, perché voglio dire riportare popolazione all'interno delle zone montane, garantendo, da quanto ho capito, una qualità di vita sostanzialmente elevata, non è uno spostamento verso una periferia degradata, quindi c'è anche un pensiero sotto questo profilo.